Nata a Roma. Nata a Roma. Primi anni a Roma. Primi anni a Roma, liceo classico a Roma. Comincio a cantare per una serie di circostanze. Comincio poi a cantare jazz. In piena adolescenza un'amica di mia madre mi suggerisce di fare qualcosa di musicale. Famiglia romana? No. Mamma pugliese e papà siciliano. Quindi sangue del sud. Arrivata a Roma la sua famiglia? Arrivata a Roma la mia famiglia. Mia mamma aveva 4 anni quando i miei nonni si sono trasferiti. Mio padre ne aveva un po' di più dalla Sicilia. Si sono incontrati e sono nata io. Dopo poi si sono lasciati, però hanno lasciato io. Figlia unica. Figlia unica, la testimonianza. Figlia unica di genitori separati? Altri fratelli? No. I primi anni allora a Roma dicevamo poi? I primi anni liceo a Roma, in frattempo... Già, incontro la musica. Incontro la musica. La musica... Per scelta è la musica che incontra lei o viceversa? No, è la musica che mi ha scelta. Io non sono brava a prendere decisioni, ne faccio scelte. Sono le scelte che fanno me. L'ho spiazzata. Si lascia scegliere, insomma. Sì, no, lascio che le scelte mi... Arrivino. Arrivino e... Con un'evidenza. Quindi non incontro la musica, ma è la musica che arriva da lei. È la musica che mi incontra. A quanti anni? È presto, molto presto. Cioè mia nonna, Bianca, in realtà ha un ruolo molto importante perché io passavo molto tempo con lei. Perché i suoi genitori si separano quando lei aveva anni? Quando io avevo due anni. Due, quindi... Quindi erano molto giovani, erano nella loro piena realizzazione professionale. Ovviamente passavo molto tempo con le mie nonne e i miei nonni e soprattutto con mia nonna Bianca che aveva un vecchissimo pianoforte a casa. Siccome ero una bambina comunque molto irrequieta, molto esuberante, e mia nonna a un certo punto, per liberarsi un po' di me, mi prendeva e mi faceva sedere, mi metteva seduta davanti al pianoforte e se ne andava. Quindi io da sola ho in un certo senso cominciato a inventarmi un rapporto con lo strumento. Cioè forse mi si apriva più un sipario mentale e io trovavo delle cose, non avevo nessuna nozione tecnica, avevo due o tre anni. E piano piano ho scoperto la relazione tra le note, tra una nota e l'altra. A due o tre anni? Beh, le canzoncine solite, non so, d'ora e mili, i tassi solo bianchi, insomma cose molto, niente di un fan prodigio anzi. Mia nonna lì ha capito che forse io, avendo capito da sola la relazione tra le note, avevo comunque un'inclinazione musicale buona. E quindi ha detto a mia madre, guarda, fare fare qualcosa di musicale. Dopo qualche tentativo, come so, coro alla filarmonica o uno studio di chitarra classica, è andato non bene. Io tramite un'amica di mia madre ho cominciato a frequentare una scuola di canto jazz. Anni? 13, 14. Quindi col jazz, canto, perché poi canto jazz? Ah, non lo so, sono sempre quelle strane cose, un po' coincidenze, che però le coincidenze secondo me non esistono, un po' di incontri, sono gli incontri che per me sono stati sempre importanti ad oggi, devo dire, che mi hanno dato, regalato delle cose che ho saputo cogliere in un momento importante, in cui c'era bisogno di qualcosa per muovermi verso qualcos'altro. Un'amica di mia madre mi ha suggerito una scuola di canto jazz, St. Louis, che al tempo si chiamava St. Louis Music Academy, e io ho cominciato a frequentarla un po', poi una cosa tira l'altra, ho fatto un'audizione per la Berkley, mi sono trasferita a Boston a 18 anni dopo la maturità classica. Maturità classica, cioè fuga? No, non è una fuga. No, non è una fuga, perché fuga fa sempre pensare a qualcosa che lasci con un certo disappunto. Avevo 18 anni, che disappunto dovevo avere? Era tutto in potenza, ero nel pieno potenziale di tutto, quindi io semplicemente volevo farmi un'esperienza, forse... Fuga dall'università sicuro? Sicuro, bravo, quella sì, fuga dall'università tradizionale. Sì, non avrei saputo veramente cosa fare, forse, cioè, legge, medicina, non lo so. Figlia di genitori separati ha agevolato un po' questo andare a Boston oltreoceano o no? Secondo me figlia di genitori separati ha agevolato il mio dinamismo, il mio mercurio, peraltro sono dei gemelli, quindi il mio segno è retto da mercurio, itinerante, no? Quindi, avendo fatto avanti e indietro tra l'uno e l'altro dall'età di due anni, ero, diciamo, incline agli spostamenti, con una certa disposizione naturale. Poi, sicuramente i miei mi hanno abituato a fare tanti viaggi, già da piccola, non so, mi mandavano delle cose da sola, o mi hanno... Mi hanno comunque educata alla libertà. E quindi è andata a Boston. Sì, ho avvento questa borsa di studio, le l'ho detto. Sanremo, la sua partecipazione all'orfezione di Sanremo era ancora un'esperienza lontana, non pensava. Eh, non pensavo, sì. Boston, e lei arriva a Boston a 18 anni. Ecco. Dove va? Shock, culturale. Una giovane 18enne. Eh, sono andata in questa università, in questo college di musica, che si chiama Berkeley College of Music, e lì ho incontrato tantissime persone di tutto il mondo, America Latina... Quindi con una scelta musicale ben precisa, insomma, è andato in questo posto dove... Beh, certo. ...la musica è al centro di tutto. Era una scuola, è una scuola di musica molto, molto bella. Quindi la scelta l'aveva fatta, in un certo senso. Volevo raccogliere l'evidenza di questa mia inclinazione, diciamo, rispetto al poter cimentarmi con il canto di un certo tipo. Volevo imparare tante cose, volevo andare nel paese dove poi si faceva la musica che io avevo, in un certo senso, scelto. Il jazz. Boston. Boston, beh, inizio del... Dopo il liceo, inizio dell'indipendenza, lascio la famiglia, lascio... Mi trasferisco in un paese dove si parla una lingua diversa, cioè l'inglese, studio in inglese, socializzo in inglese, incontro delle persone di tutto il mondo. Io che venivo da Roma, quindi improvvisamente in due settimane conoscevo gente dall'Australia, dal Brasile, dal Venezuela. Vivevo a un certo punto, no, ho vissuto prima nei dorms, poi dopo la vita era terribile lì perché si mangiava malissimo nella mensa dell'università, eccetera. Sono andata a vivere insieme a delle persone. E quindi ho vissuto con delle ragazze venezuelane, ho vissuto con la figlia di Tony Bennett, Antonia Bennett, che era mia roommate, con la quale ci esibivamo ogni domenica, già a Boston, in un club italo-americano che si chiamava Il Panino. Il? Panino. Gestito da italo-americani. Una scena un po' alla Sopranos, diciamo. Poi? E poi, quindi cosa succede? Comincio a studiare, a frequentare questa scuola, a incontrare tantissima gente e nello stesso tempo cominciò a cantare dal vivo, in tutti i locali possibili e immaginabili. Non so da... Sempre jazz di sottofondo o no? Sempre erano jazz standards all'epoca e a volte di sottofondo e poi la sfida era quella di, ok, partiamo sottovoce, partiamo come musica di sottofondo e poi piano piano si distoglievano gli sguardi dai piatti o dai bicchieri e ci cominciavano a guardare e ci cominciavano ad ascoltare. A New York abbiamo raggiunto il top perché... Perché poi da Boston si trasferisce a New York. Sì, poi mi sono trasferita a New York. Un passo abbastanza tipico. E a un certo punto però a Boston ho messo su un gruppo mio, il mio primo trio, con cui mi esibivo non più come prima in qualsiasi posto, ma in dei club. Da lì abbiamo cominciato ad avere un sacco di affluenza di pubblico e quindi è arrivato il momento per cui era fondamentale muoversi. Con canzoni italiane no. No, però... Canzoni italiane per i titoli americani sì o no? No, neanche. Era sempre jazz e poi a un certo punto io ho scritto una canzone in italiano che si intitola Parole incerte ed è questa canzone che mi ha cambiato veramente la vita. Come mai? Perché è stato... Intanto perché l'ho scritta? L'ho scritta perché ho raccolto un impulso dentro di me di scrivere e liberamente... Quindi è la sua prima volta come scrittura in un certo senso. E questa canzone però coincideva col momento in cui c'erano questi locali molto pieni a Boston dopo le nostre performance e ho deciso di andare a New York e tentare estendere gli stimoli, quindi anche le sfide un po'. In ogni caso papà, mamma praticamente lasciate in Italia. No, papà, mamma li sentivo, tornavo in Italia. Sì, però aveva in un certo senso tagliato le proprie radici o no in un certo senso? No, radici non le ho mai tagliate, però ero veramente dedita al raggiungimento della mia realizzazione creativa, personale. New York? New York. Parole incerte? Parole incerte. Quali sono le parole incerte? Quelle che... Le parole incerte sono delle parole che non siamo sicuri mai di poter esprimere. Per esempio? Per esempio, non lo so, appunto, sono incerte. Non ci sono parole incerte adesso, in questo momento, perché sto seguendo un treno di pensamento. Allora c'erano. Allora certo, c'erano. Quali erano le parole incerte di allora? Eh, adesso devo ripensare al testo. Le parole incerte di allora erano sempre questo... Futuro, per esempio. Il gestire le distanze, per esempio, legate alla gestione delle distanze, quindi i contatti. Quando tu non vedi una persona e la senti solo per telefono, ci sono tantissime parole incerte nell'aria che spesso rivelano intenzioni che non sono esattamente quelle sentimentalmente più pensate, capisci? Cioè, le parole incerte che rivelano intenzioni che non hai. Questo era un pezzo della canzone. E New York incontro, alle prove di Paul Simon, un produttore, Russ Eitelman, che è un produttore che ha prodotto Paul Simon, Chaka Khan, James Taylor e molti altri artisti. A lui, lui mi ha chiesto una demo, una serie di provini di canzoni, e io gli ho mostrato questa demo che avevo, che conteneva parole incerte. Ecco perché parole incerte la svolta. Esatto. Allora? Perché dopo parole incerte, e dopo questo incontro, lui ha ascoltato la demo, mi ha chiamato, mi ha detto, voglio lavorare insieme, voglio aiutarti a produrre il primo disco, e dopo, e da lì è nata un'altra cosa. E non è nata una storia d'amore? No. Storia professionale. Professionale, grandissimo. Russ Eitelman per me è stata una persona, proprio come diceva Vinicius G. Moraes, la vita è l'arte dell'incontro. La mia vita ha avuto veramente, nella mia vita ha avuto il regalo di incontrare un sacco di gente che mi ha veramente mostrato delle strade. rassa è quello che mi ha detto, ho sentito parole incerte, devi scrivere. Basta interpretare, ne sai abbastanza, adesso scriviti e interpretati. Questa per me è stata una grande svolta. Quindi dopo parole incerte? È cominciata la valanga della composizione, e quindi insomma altri incontri, collaborazioni. Quindi una scoperta che lei ha fatto anche con se stessa, lo scrivere, i testi. Sicuramente, certo. Però è stato quel feedback di una persona con tanta esperienza, e con tanta, e con tanto, tanto da dire, tanto da suggerire, che mi ha dato veramente l'input più importante per poi intraprendere questa cosa della scrittura. New York quanti anni? New York erano 2000. A New York comincio, quindi conosco un sacco di altri artisti, comincio a comporre, e Russ Teitelman mi fa conoscere Bert Bacharach, con cui scrivo una canzone del mio primo disco. Il primo disco è stato pubblicato dalla Verve, grazie appunto a Russ, che dopo avermi fatto scrivere, diciamo, stimolato a scrivere più canzoni, abbiamo messo insieme 3-4 canzoni, e abbiamo fatto un altro provino, l'abbiamo presentato, lui l'ha presentato alla Verve, ed è nato questo, da lì, è nato il primo disco, quindi il primo giro di mondo, eccetera, eccetera. Giro di mondo? Sì. Cioè da New York si è... Giappone. Anche se New York è il mondo. Certo. Giappone? Sì, Giappone, abbiamo fatto, il disco è uscito in tanti paesi del mondo, quindi ho cominciato a fare tournée promozionali, e quindi la fase 2 dell'esibizione, dopo la fase di raccoglimento per la composizione, è iniziata e poi io sono ufficialmente entrata nel mondo discografico, con questo primo disco che si chiama Last Quarter Moon. Attraverso l'America, in un certo senso, non attraverso l'Italia. Sì. Poi c'è stata l'Italia, è arrivata l'Italia a un certo punto? È certo, a un certo punto sì. È arrivata l'Italia, in Italia io tornavo spesso anche a cantare, a fare concerti. Stando in America. Stando in America, vivevo lì e venivo qui ogni, periodicamente, forse ogni due volte l'anno, a parte per trovare, comunque per venire a trovare la mia famiglia, venivo a cantare, a fare dei concerti. L'Italia, diciamo, nel... Oggi siete trasferite in Italia, nel senso che è ritornata o no? No, sono sempre... cioè, per il momento sono qui. Poi, io mi riservo sempre, sei uno spirale, una porta aperta, un piede fuori dalla porta. Quindi tornavo in Italia, stando a New York. Sì, tornavo in Italia, stando a New York e diciamo che l'incontro, insomma, con l'Italia più ufficiale, con il grande pubblico, è venuto attraverso il Festival di Saremo nel 2012. Dove non è andata in finale? No. Non tanto tempo fa. No, ed ero già al quarto disco però, quindi dopo il primo ce ne sono stati altri e nel frattempo poi è entrato nella mia vita il Brasile e mi sono trasferita per un po' in Brasile. Questo prima del 2012. Quindi America, Brasile. America, Brasile. E perché in Brasile? C'è un perché? No, in realtà il perché più profondo e più bello è che io sono innamorata da sempre della musica brasiliana, di Tom Jobim, di un certo tipo di modo di fare musica e per me è la sublimazione dei tre elementi, armonia, melodia e ritmo e poi parole ovviamente. Il Brasile a livello letterario è fantastico, dei grandissimi poeti, dei grandissimi scrittori, dei grandissimi musicisti. E lì io ho incontrato Daniel Jobim, il nipote di Jobim quando facevo il mio primo disco e nel 2008 decido di andarlo a trovare. Da lì è iniziata tutta una serie di meravigliose collaborazioni con grandissimi artisti di là. E quindi ho cominciato a creare comunque anche una mia attività lì come compositrice e anche come interprete e cantante. Poi sempre nel 2012 in Brasile abbiamo vinto insieme a Dana Carolina e Dudu Falcao il premio di miglior canzone del Brasile 2012, stesso anno di Sanremo. E comunque il Brasile anche è stata ed è una tappa importantissima nella mia formazione interiore. E poi è ritornata in Italia. Poi adesso con canzoni... Ecco, tutto questo giro del mondo per arrivare poi al mondo di Gigi Fontana, di Jimmy Fontana, grande, grande, grande e tanti altri successi italiani. Insomma bisogna girare il mondo per arrivare poi a quello che l'Italia ha regalato a tutti noi o no? Che ha capito? Beh, ho capito. Non vale la pena. Certo. E poi comunque la cosa... Cioè gira, 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 ma lei poi dove è tornata? A Gigi Fontana. Alla grande melodia italiana. Eh, quel playboy che gira tutto il mondo, ama tante donne bellissime e poi sposa la ragazza della porta accanto al suo paese. Certo, moglie. Quindi questo che cosa sta a significare? Questo sta a significare che per me... E la musica italiana ovviamente. Sì, per me la cosa bella, io mi sono cimentata anche con tanti repertori. Ho assorbito tanti suoni, non propriamente italiani. Si parla di jazz, di soul, di bossa nova. La mia grande... il mio grande bisogno anteriore e desiderio era quello di creare, senza fare un'operazione nostalgica, un'antologia a cui... Perché lei dà un senso suo personale a queste canzoni. Queste canzoni, grazie a Nicola Conte, il produttore che in questo disco ha deciso di incontrare e con cui creare questa cosa, abbiamo rienterpretato queste canzoni togliendoci un po' da quella cliché melodrammatico italiano che ci ha fatto anche... con cui ci conoscono molto all'estero. Sì, siamo romantici, ma siamo anche molto drammatici. Però la sostanza quella è... La sostanza, il pathos di queste melodie resta. Ma quindi cosa vuol dire che il passato torna sempre? Non si può cancellare. Assolutamente. Nella vita... Il passato, voglio dire, come dire, come si fa a cancellare una tradizione musicale di così tanto spessore? Non c'è il mondo che... Fotografie, momenti di vita vissuta da e di Chiara Civello, cantautrice, canzoni, suo ultimo album, che è anche un concerto in giro, fino a quando? In giro per l'Italia? Per adesso, sicuramente fino a fine dicembre, con appunto tappe varie e adesso stanno continuando a inserire date. Siamo di nuovo in compagnia di Chiara Civello, cantautrice. La luna, la notte, Roma... È romantica? Romanticissima. E si soffre quando si romantica, o no? Certo. Ha amato molto. C'era qualcuno che diceva amare significa sempre misurarsi con il dolore. È vero, è vero. Vanno mano nella mano. Eh, ma non si può soffrire sempre per amore. Eh, ma non... bisogna... nell'amore c'è sempre struggimento. Quando lo struggimento non c'è più, non dico che l'amore finisce, ma ci si è lievemente accomodati in qualcosa, secondo me. E quindi, lei parla per esperienza? Come? Parla per esperienza personale? Certo, parlo sempre per esperienza personale. Però io non mi sono mai accomodata nelle mie storie, mai. Bisogna cercare di smuovere un po' le cose. E comunque Rilke è il più saggio di tutti, perché diceva che per il successo di un'unione stabile, diciamo, di un matrimonio, bisogna cercare di ripetere all'infinito la dinamica di separazione e ritorno. E secondo me questo è vero. Cioè, elargire degli spazi, delle distanze, per poi ritrovare il desiderio dell'altro, il bisogno dell'altro, secondo me è una cosa molto interessante. È esperta in questa materia? Sì, è espertissima. È sposata? No. È innamorata? Della vita sì. No, di un uomo? No, di un uomo in questo momento no. Non è mamma? No, ancora no. Peccato o no? Peccato non è mai troppo tardi, ci sto pensando. È un pensiero che ogni tanto ricorre. Vediamo alcune foto che la riguardano. Chiara, momenti della sua vita. Ricordiamoli, commentiamoli proprio insieme. A Chiara Civello, ospite, questa notte. Prima foto, eccola. Ah, ecco, questa qui è una festa mascherata. Io sono la seconda da sinistra. Io ho fatto questa festa, cioè la mia mamma ha organizzato questa festa di carnevale ed io mi sono rifiutata di mascherarmi. Quindi io sono l'unica a non mascherata in questa festa. Oggi i suoi genitori? Stanno benissimo. A Roma? A Roma, sì. Questa sono io a un compleanno e sulla sinistra vedete la mia nonna bianca, che è la famosa nonna che mi faceva sedere davanti al pianoforte, che è ancora viva, sta benissimo. I suoi genitori con la musica c'entrano o no? No. La sua famiglia? No, la mia nonna, mia nonna sì, bianca, lei, c'entra nel senso che lei studiava il pianoforte e adorava il pianoforte e sua mamma addirittura suonava l'arpa e affaceva, credo facesse anche dei concerti. Per dei loro motivi, ovviamente anche legati ai momenti che l'Italia sta vivendo in quel momento, sono state stroncate entrambe nel loro sogno di poter realizzare la musica nella loro vita. Però, quindi credo di avere un po' ereditato io questa cosa. Altre foto, vediamo. Ah, io con papà in Sicilia, lui sul surf e io dietro con la ciambellina. Questa è la mia mamma, in queste foto scattate da Russ Eiterman, il produttore, a New York. Questo è Chico Buarque, nel duetto di Io che amo solo te, un duetto in questo disco. Alla fine era un momento di tale emozione che ci siamo dati questo bellissimo abbraccio memorabile, veramente. Con Bert Bacharach nella sua casa di Santa Monica. Ecco, io e il Russ, io ero il primo disco, il Russ Eiterman, accanto a me che ascoltava con grande concentrazione qualcosa. Ecco Nicola Conte, io e Nicola nel momento in cui registravamo il mio ultimo disco, Canzoni. E questo è un altro dei duetti del disco che è con Gilberto Gil, Io che non vivo senza te. Questo è uno dei momenti in cui, per esempio, sulla destra c'è Daniel Jobim, uno dei miei più cari amici, che è stato quello che mi ha presentato tantissimi altri artisti. Accanto a Daniel Jobim c'è Preta Gil, che è la figlia di Gilberto Gil, con cui ho collaborato. E alla mia destra, cioè la prima a sinistra, è Anna Carolina, un'artista fantastica con cui ho collaborato molto, una cara amica. Chiara, la bellezza è sempre verità o no? Non lo so. Dipende da quanto uno la altera. Più naturale è, più bella è. La canzone che ha scelto, e perché la scelta? Se c'è un motivo legato alla scelta. Io nella mia mutevolezza, che ovviamente cambio canzone preferita ogni giorno, poi essendo il mio lavoro comunque non è facile potersi, poter fare una dichiarazione della mia canzone preferita. Una canzone che amo moltissimo è The Look of Love di Bert Bacharach. C'è un motivo? Ammirazione, pura, grande ammirazione per lui, il genio che è. Amare è capire o no? Non lo so. Amare è non capire. Giovanna Pizzarri. Amare è capire. Your smile can disguise But look Oh Lord It's saying so much more than just words Takes my breath away I can hardly wait to hold you Feel my arms around you How long I have waited Waited just to love you Now that I have found you You've got the look A look That time can't erase You're mine Tonight Let this be just a start-up So many nightly things Let's take a love as well And then seal it with a kiss I can hardly wait to hold you Feel my arms around you How long I have waited Waited just to love you Now that I have found you Don't ever go Don't ever go I love you so Dov'è andata con la testa? Eh? Dov'è andata con la testa? Comunque Comunque Santa Monica, California Poi pensavo a delle versioni Che mi ricordavo di questa canzone Vivrà sempre in Italia o no? No No Vivrò Vivrò sempre in questo Non lo so Io non amo le definizioni Dove vivrà da adesso in poi Dove mi porterà il mio cuore La mia musica Squillo del telefono Eccolo Ora arriva lo squillo del telefono Dottoressa Laurelli Buonanotte Buonanotte C'è un sogno da raccontare? Eh allora Io Ovviamente mi ricordavo di questa domanda E ho difficoltà A dire questa cosa Di sogni ricorrenti Perché non ne ho C'è stato soltanto Una Volta in cui io Credo Che sia successo Insomma Di aver sognato una cosa due volte Io ho la sensazione Che non esistono i sogni ricorrenti Però Non volevo neanche mettermene uno C'è una volta Un paio di volte che ho sognato Che in un concerto C'era Io mi perdevo in un labirinto Tutti erano sul palco La gente era già fuori Io non riuscivo ad arrivare sul palco Perché c'era un intoppo dietro l'altro Per esempio Io A un certo punto avevo i pattini E dovevo arrivare Pattinare Eccetera eccetera Poi trovo anche noioso Il raccontare i sogni Quindi insomma Dottoressa senti Taglio cuore Beh I sogni Normalmente rappresentano Delle metafore Del nostro mondo emotivo Quindi I sogni ricorrenti Sono quei sogni Che come dire Ci fanno vedere Che il nostro mondo emotivo Un po' Intoppato In una situazione Quindi Ritorna Proprio per rimetterci davanti Quella situazione Che sembra sempre uguale A se stessa E che probabilmente Scatena delle emozioni Nella vita quotidiana Che non riusciamo ad elaborare Quindi il sogno Ci viene in aiuto Proprio per questo E in effetti Il sogno che ha raccontato Ha a che fare Probabilmente Con una situazione Di impotenza In quelle situazioni Anche affettive Lavorative E emozionali In cui Ci si sente Intrappolati No Si ha un percorso Da fare Si ha già In mente la meta Però Evidentemente Siamo delle difficoltà A raggiungerla E questo mette anche Un senso proprio Di impotenza Di angoscia Perché vorremmo Arrivare Lì dove Siamo destinati Però Ci sono degli imprevisti E questo poi Come dire Trasportato nel mondo Della quotidianità Della realtà Probabilmente A che fare Con delle situazioni Anche concrete In cui evidentemente Uno si sente Intrappolato E non riesce Ad uscire fuori Da quella situazione Buonanotte Dottoressa Buonanotte Sogni ad occhi chiusi Oggi I suoi sogni Ad occhi aperti Ci sono dentro Nel senso che Sono dentro Un sogno Una cosa che Ho sempre sognato Di fare È quello di vivere Attraverso la musica E quindi Non ho bisogno Di aprire o chiudere Sono dentro Questo sogno Che si sta Giorno dopo giorno Realizzando sempre di più E mi sta dando sempre Delle cose belle Il successo Proprio non è arrivato Ancora Proprio il successo Intendo Popolarità Non è una cosa Che io penso Sia determinante Io credo Che il successo È proprio personale La realizzazione Sì perché no Sì no Mi interessa Continuare In questa Questa bella esperienza Di vedere tanti posti Intanto grazie Chiara Per essere intervenuta Sottovoce Non so se lo sa Noi chiudiamo sempre I nostri contri Chiediamo all'ospite Se faccio una domanda Si di una risposta Chiara a se stessa Chiara Civello Cosa chiede E cosa risponde Ecco questa veramente Questa veramente Allora io mi chiedo Perché La zanzara Stanotte Mi appunto Qui Proprio lì Esatto Proprio qui Ci sarà Allora la mia risposta Potrebbe essere Perché Anche le zanzare Non dormono Non dormono E sono E sono dispettose Sono dispettose Lei lo è dispettosa No io no Io sono molto Mi diverto Molto Mi piace Mi piace L'ironia Mi piace Essere presa in giro Anche mi diverto Moltissimo Essere messa in situazione Un po' Così dove mi devo districare In un modo o nell'altro Vora a noi Vora a noi